Ania Pallavicini, entri e non bussi alla porta dei miei istinti, non chiedi il permesso, mi penetri fin nelle viscere, mi scurri dentro come sangue, mi trattieni in questo amplesso mentale e pulsi sempre più forte per riemergere nel morso di un mio genito soffocato, poi fai via senza chiudere la porta. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS